Non mettetevi troppo comodi, abbiamo solo 20 minuti per parlare di smart working, un modo di lavorare amato da molti, detestato da altri. Piace o non piace ai lavoratori e alle imprese? E poi, va bene per le tasche dei lavoratori? Conviene o no? Gli ospiti sono pronti, noi facciamo le domande, sigla la copertina e partiamo. Poi abbiamo con noi il professor Fabio Fortuna, economista e rettore dell'Università Cusano. Professor Fortuna, il numero dei lavoratori coinvolti è elevato, ma quanto pesa lo smart working sull'economia generale? Questa è una bella domanda a cui è un po' difficile rispondere. Intanto pesa a seconda dei soggetti che consideriamo, nel senso che i lavoratori sicuramente tra lo smart working possono avere dei risparmi di costi, perché evitano spostamenti, possono lavorare da una sede a distanza, le imprese a loro volta possono avere dei risparmi di costi che derivano dalla mancanza di necessità di postazioni fisse e quindi di un luogo fisico dove operare. Sull'economia generale il peso reale, anche se ci sono state delle analisi, è un po' difficile da determinare. Certamente lo smart working è qualcosa che è destinato a entrare nella nostra realtà in modo più prepotente, anche perché nel resto del mondo lo smart working è molto praticato. Noi in Europa siamo tra i fanalini di coda, perché abbiamo i nostri competitor tipo Germania e Francia, la Germania ha più dell'80% di sviluppo per lo smart working. E' un gap da recuperare, sebbene impostato compatibilmente con tutti gli svantaggi, perché ci sono anche gli svantaggi, ne parleremo tra poco, però economicamente può anche svantaggi. Lo smart working, ci ricordiamo a tempi del Covid, ha determinato una crisi per le piccole imprese, i piccoli negozi, le piccole trattorie, è evidente come in tutte le cose vantaggi e svantaggi, però credo che sia giusto lanciarlo. Professor Fortuna, lo smart working ha trovato ampio spazio nel contratto con gli statali, è stato firmato pochi giorni fa, nel testo si supera il vincolo della presenza fisica, si facilita lo smart working sia per i neossunti sia per chi è in condizioni di particolare necessità. Tra l'altro si riconosce anche il buono pasto per la giornata di lavoro agile, svolta con le stesse caratteristiche di quella in presenza. In sostanza, questo che cosa vuol dire? Come cambia anche la pubblica amministrazione? Intanto dobbiamo premettere che lo Stato è un'azienda, cioè come esistono le imprese, anche lo Stato è un'azienda, è un'azienda particolare, perché mentre le imprese hanno come finalità il lucro, gli utili, cioè conseguire risultati positivi, invece lo Stato è un'azienda, diciamo noi studiosi dell'economia aziendale, di erogazione o di consumo, perché raccoglie le risorse per soddisfare le esigenze della collettività. Quindi a livello di organizzazione del lavoro, a livello generale, lo Stato si può comportare come una normale azienda. Nella pubblica amministrazione noi spesso ci troviamo di fronte a una scarsa efficienza e anche a una modesta qualità dell'attività lavorativa. E lo smart working potrebbe migliorare la prestazione? Il smart working, a mio giudizio, si è impostato correttamente e tenendo sempre ben presente la compatibilità della prestazione che deve essere efficace nei confronti del cittadino, e sappiamo, critichiamo spesso la pubblica amministrazione, perché la burocrazia ci assale in ogni momento, lo smart working potrebbe essere un elemento che migliora anche, snellisce l'attività della pubblica amministrazione. Quindi è un discorso non assoluto ma relativo, vanno combinati vari aspetti, bisogna superare lo scetticismo, noi italiani siamo un po' abitudinari, e spesso abbiamo difficoltà al cambiamento. Invece questo è un cambiamento che si può fare. Io l'embrezza dello smart working, io rientro nella categoria che non può fare lo smart working.